Importante incontro oggi pomeriggio al Palazzo Comunale di Adrano fra i sindaci dei quattro comuni di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Ricodi e Centuripe che hanno firmato il protocollo d'intesa per l'attuazione delle politiche territoriali della regione siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027. Si tratta di un atto significativo perché per la prima volta si costituisce l'unione dei comuni rafforzando e ambriando così il piano delle aree interne. Un momento storico lo definisce il sindaco di Adrano Fabio Mancuso anche perché gli organi istituzionali dei quattro comuni opereranno in sinergia. Ci saranno più risorse umane, ci sarà più unità, la responsabilità di essere soggetti attuatori e questa è una grande responsabilità che ha fatto riflettere i sindaci dove sinergicamente cercheremo di fare del nostro meglio e di governare al meglio quelle che sono le risorse. Ci sarà un altro consiglio comunale formato da consiglieri comunali dei quattro comuni, ci sarà un'aggiunta formata dai quattro sindaci, avremo la responsabilità appunto di crescita di questo territorio e una unità che si sperava da tantissimi anni, penso da quando è nata la Repubblica Italiana. È un fatto storico, io sono assolutamente non solo contento ma anche emozionato perché mettere insieme un territorio di una parte dell'Etna importante significa avere un sviluppo sicuro e certo nelle mani di chi questo territorio lo vuole bene. Vogliamo ricordare gli interventi più importanti che interesseranno questo ampio territorio? Sicuramente la mobilità, la sanità, il lavoro, l'artigianato, tutte quelle che sono le materie fondamentali dello sviluppo e della crescita. Rispetto a questo avremo una strategia, un'attenzione particolare ai nostri giovani affinché questo territorio venga popolato da quelle che sono le migliori idee per raggiungere un obiettivo non solo del lavoro ma anche di uno sviluppo sostenibile. Il Comune di Santa Maria di Ricordia allora nella sostanza oggi si inserisce ufficialmente in questo patto a quattro che rafforza come hai detto tutto il territorio? Per noi oggi è una giornata importante perché ufficialmente andiamo a far parte dell'area interna assieme al Comune di Adrano, Bianchevilla e Centurve. Loro già c'erano di prima, per noi è una novità che abbiamo voluto fortemente, ringrazio anche i colleghi che comunque ci hanno dato l'opportunità per poter entrare a far parte di questa area interna. Noi dobbiamo sfruttare al massimo le risorse proprio per il territorio, un territorio che comunque deve essere valorizzato e riqualificato, quindi è un'importante occasione per noi da non perdere.